Sembra il gioco delle tre carte ma in fondo è solo l'Italia, dove le riforme pensate per semplificare in realtà finiscono per complicare le cose. La questione della bonifica dell'area adiacente alla stazione di Bari delle Ferrovie Sud-Est, già nell'occhio del ciclone per le questioni relative alle prosunte truffe realizzate con la compravendita di vagoni, si sta arenando perché le competenze in materia ambientale sono tra quelle in ballo tra regione e città metropolitana di Bari. La zona in questione tra un'area destinata alla realizzazione di edifici residenziali e l'ex Fibronit sarebbe infatti inquinata dagli idrocarburi sversati nel terreno dai convogli delle Sud-Est nel corso degli anni, esattamente come il terreno lottizzato della cui bonifica si sono occupati già i privati. Mentre sull'area adiacente di proprietà del Comune di Bari era stato aperto un dossier dall'allora provincia di Bari per stabilire tempi e competenze della provincia, provincia di Bari che nel frattempo è diventata città metropolitana ereditandone temporaneamente uffici e dossier, in attesa della legge regionale in questi giorni in discussione e in consiglio, che dovrà ridisegnare la geografia dei rapporti tra gli enti locali e l'ambiente tra le competenze che quasi certamente torneranno in capo alla regione Puglia e il dossier si arena. I soggetti coinvolti in realtà sarebbero ancora di più, oltre a regione, città metropolitana, ferrovie sud-est e Comune di Bari ci sono anche l'ARPA Puglia e l'ASL Bari. Sei voci da sentire per trovare la quadra di un procedimento che interessa un'area nevralgica della città, bloccata anche dalla questione della fibronit, la cui bonifica viene continuamente rimandata per questioni di carattere burocratico. Appunto, siamo in Italia.